L'Europa blocca i fondi alla corrida, che significa questo per animalisti italiani? Per gli animalisti italiani è più grande successo nella storia dell'associazione. 130 milioni di euro che nel budget del 2016 dell'Unione Europea non andranno a finire nelle casse della mafia taurina in Spagna e molto probabilmente porteranno alla fine degli spettacoli di tauromachia in Spagna e nel sud della Francia. L'anno scorso la maggioranza votò per l'abolizione dei fondi ma non si raggiunse il quorum. Quest'anno il risultato è andato a segno, ma l'associazione come ha lavorato in questi 12 mesi? È stato un anno molto faticoso e impegnativo per tutti noi dall'associazione, perché oltre al lavoro di raccolta firme, infatti ho consegnato personalmente ai deputati italiani migliaia e migliaia di firme per abolire questi finanziamenti, è stato anche un duro lavoro di diplomazia, perché in 12 mesi abbiamo contattato tutti gli europarlamentari italiani e non affinché prendessero un impegno formale per abolire questi fondi. Ma siete stati aiutati in qualche modo? Avete cooperato? Come è andata precisamente la questione? Purtroppo noi in Italia siamo stati l'unica associazione a prendersi l'impegno di abolire questi fondi europei, purtroppo non siamo stati affiancati da nessuno, ma per fortuna siamo riusciti ad arrivare lo stesso all'obiettivo finale. Alla morte della portina! Alla morte della portina!